Salerno si prepara al giorno di Matteo. Saranno la tradizione e le nuove emozioni a scandire il 21 settembre, proprio come avviene ogni anno. Un abbraccio, quello tra San Matteo e la città Capolugo, che si rinnova nelle sue varie fasi della giornata più attesa dai salernitani. Tra l'odore della milza e dei piatti tradizionali preparati dal primo mattino che si combineranno con l'incenso e l'odore dei fiori che adorneranno le paranze, alle 10.30 in cattedrale si svolgerà il solenne pontificale preseduto dall'arcivescova Andrea Bellandi e dal ministro generale dell'ordine dei frati minori, padre Massimo Fusarelli. Alle 18 invece la solenne processione con i simulacri di San Gaio, San Fortunato, Sant'Ante, San Gregorio, San Giuseppe e San Matteo, che attraverseranno ad agiate sulle spalle dei loro portatori le strade principali del centro cittadino. Per quanto riguarda il dispositivo del traffico invece, dalle ore 16 sarà interrotta la circolazione nelle strade interessate dal passaggio della processione. Attesi migliaia di persone provenienti da tutta la regione. A mezzanotte invece l'attesissimo spettacolo pirotecnico, con il quale si concluderà la giornata più attesa da ogni salernitano.